San Casciano, frazione di Cascina, conserva ancora la bellissima pieve dei santi Ippolito e Cassiano. Il campanile ricostruito in cemento armato risulta fuori dal contesto. Nei dintorni segnaliamo delle meravigliose ville, come quella delle statuine e il meraviglioso panorama dei Monti Pisani. Le abitazioni di San Casciano sono abitazioni rurali, ma c'è una nuova zona residenziale con villetta schiera, giardini e piazze. Segnaliamo l'oratorio di Sant'Anna sulla strada statale, che rimane inglobato in un palazzo.